non mi è arrivato il pedale di centri, io non mi è arrivato il pedale di centri, io sono stati in Monaco, quando mi avevo chiesto troppo russo, ancora mi aveva pagato la licenza, mi avevo paura che io potevo sul manco di Monaco. Ma voi parlate di licenza negli elementari? Alimentari, sì. Quindi a che classe siete arrivato? Io sono arrivato alla seconda. E quante volte vanno bocciato? Non mi ricordo, mi avevo chiesto russo, ma non mi andavo perché i Monaco si erano preoccupati. Di cosa? Che io stupavo un po' Ma erano carine queste Monaco? Erano vecchie, erano loro che si pensava che potevo sul manco di 10, chi fava? Zio Peppe, ma la vostra prima donna chi è stata? Mia moglie. Vostra moglie? Mia moglie. Prima siete arrivato vergine al matrimonio? Vergine, vergine come dì mi ha fatto, vergine. Tant'è vero che la prima notte si è andato a chiudere la ricca esse. Zio Peppe, però alla vostra generazione esistevano le case chiuse? Sì. E voi non le frequentavate? Mi hanno dato mai. Non ci siete mai neanche entrato? Mai e puttano non si hanno mai mangiato uno sorgio pochino, mai. Non ci siete mai entrato? Mai tra sotto l'altro. Poi i signori che trasevano e cevano, quando cevano vedevano una mazzetta perché io ci guardavo rirote, ogni m'è dice guardare che rirote, loro sa chiedeva, sa chiedeva, gli aveva fatto loro, ma faccia loro, ci puoi chiedere. E con le prostitute insomma ci parlavate, le rispettavate o? Chi so come si parla di tutti? Le puttane. Le puttane. Le puttane. Sì. Quando ci trovavano la mano allora io ci parlavo, loro ricevano e mi avevano una mazzetta perché io ci mandanevo i clienti, io mandanevo i cavalli rirolti da tutto e loro quando ricevano mi avevano una mazzetta. Che tipo erano? Che persone erano? Facevano il schifo. Perché? Beh, razzato, fatevano quando ricevano. Quando ricevano erano proprio il chiumro fumato, ma quando ricevano si avevano consumato il pello molto. Ma secondo voi bisognerebbe aprire i nuovi casini oppure no, zio Peppe? Ma guardate, se... Certo lo potessero scegliere fuori, non lo rirrapano, non lo rirrapano, come ho detto. Ma se erano tanti poveri cristiani, potessero scegliere uno con i buchi brutti come Siffra, potessero scegliere un colpo da pagare, credo che era da pagare. Zio Peppe, state iniziando a offendermi. Perché? Scusate, voi mi sta trompendo il cazzo. Stai su sti domande. Stai ancora che pericolo su tutti i corsi. Eh, zio Peppe... Ma ci va mandata a parte il canno? Ci va mandata a parte il canno? Il sito Tresciopolis. Ma ci va mandata a parte il canno? Il sito Tresciopolis. Ma ci va mandata a parte il canno? Cato che è una pancudia da venne? Ci va mandata a parte il canno? Zio Peppe, io non capisco. Ma ci va mandata a parte il canno? Ci va mandata. Gio Peppe, io devo capire perché mi dovete sempre arronzare alla fine? Ma qua ci arronzare. Io ho fatto il canno da sotto. Gio Peppe. Voi non mi ha rientro. Voi parlate troppo forte. Guardate. Voi girate, girate. Mi ho portato sempre là. Siamo sempre sotto ora. C'erriano. La mamma va. Vieni a vedere. Forse. Uccito. Fugito. Fugito.